L'impianto CB su questo Ford Benimar modello tesoro vediamo il lavoro che ho eseguito e il materiale utilizzato per l'impianto CB Il primo lavoro è stato quello di installare l'antenna Power by Trackpoint un'antenna da 1,60m-800matt retarata cosa significa? Che una volta installata è già perfettamente funzionante questa è una caratteristica distintiva che ti permette anche un'installazione fai da te Il secondo lavoro dopo aver effettuato i dovuti collegamenti in pianto elettrico e antenna è stato quello di posizionare questo Alan 48 e l'altoparlante esterno per migliorarne la qualità dell'audio Questo Alan 48 è stata portata alla modifica della potenza quindi dei 15W per migliorare la qualità in modulazione in modo particolare per maggiorare la distanza Io sono Umberto CB by Trackpoint Quindi Trackpoint si trova in provincia di Cremona e dispongo di un ampio piazzale e un ampio capannone per le dovute installazioni Mi occupo da 35 anni di installazioni e riparazioni di rice trasmittenti CB su camper, auto, fuoristrada, mezzi agricoli e altri mezzi Se anche tu avessi la necessità di installare il tuo impianto CB sul tuo mezzo, in questo caso sul tuo camper mi puoi contattare i numeri in sovrimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare che è anche il numero di whatsapp il 335 446 595 Ti invito inoltre a visitare il sito internet www.trut-point.com sezione dedicata in questo campo, in questo caso ai camper Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale Trackpoint attivando la campanella per restare aggiornato sempre sui nuovi video Se ti è piaciuto questi video condividilo con i tuoi amici Da Umberto CB by Trackpoint in provincia di Cremona Ci risentiamo e ci vediamo al prossimo video